27 dicembre ultima domenica dell'anno auguri e partiamo come sempre con l'oroscopo e con il primo segno quello della riete i momenti liberi del weekend potrebbero essere utili per mettere un po di ordine nel tuo privato se ce ne fosse bisogno puoi migliorare sia l'ambiente domestico che il rapporto affettivo toro c'è sempre il conflitto tra i tuoi desideri e la necessità di affermazione si possono esaudire entrambi ma uno alla volta dai la priorità a quello in cui credi in questo momento gemelli domenica proficua se vuoi salvaguardare però la tua immagine pubblica è bene far piazza pulita di cose e situazioni stagnanti altresissaggio avere un piano accurato di ricostruzioni per non ritrovarti spiazzato in futuro cancro ancora buone previsioni le stelle ti sostengono ti aiutano ad ampliare la dialettica ad allargare le vedute belle soddisfazioni per chi lavora con persone straniere leone riprenditi in questa domenica ai contatti con una persona che può darti utili consigli per migliorare i guadagni e il lavoro in generale nel tuo cielo c'è un bel fermento positivo vergine domenica in cui ti puoi riscattare da errori e malumori che hanno provocato momenti di tensione con la persona che ami sforzati di capire anche le esigenze degli altri senza sfuggire quando qualcuno tenta di coinvolgerti bilancia buone influenze che ti aiutano ad avere un atteggiamento pratico nei confronti degli avvenimenti di questi giorni non ti perdi d'animo neppure nelle difficoltà e quindi concluderai l'anno con un bilancio economico positivo scorpione la luna è romantica giornata d'amore di creatività momento ideale per affrontare eventuali problemi con il partner e per progettare il futuro e amarsi più di prima buona domenica amici del sagittario in questi giorni di festa è l'occasione giusta per risvegliare i buoni sentimenti la fiducia negli altri para miracoli e qualche impennata di orgoglio non la noterà nessuno capricorno domenica promettente dal punto di vista delle relazioni se sei in coppia prodigati a rendere il rapporto più stimolante gli assi nella manica da giocare li hai e come e allora tirali fuori acquario idee creative e soluzioni sia per quanto riguarda le noie del lavoro che per quanto concerne la sfera sentimentale sei disposto a valutare o addirittura ad accettare una proposta curiosa che in altri tempi avresti respinto pesci oggi ti puoi permettere una giornata sopra le righe andando alla ricerca di tutto ciò che riesce a stupirti quello che per molte persone è un punto d'arrivo per te è solo la partenza è tutto per l'oroscopo di questa domenica 27 auguri e buona fortuna a domani